Sì, Saffì! Oddio, la palla! Non sopperti che ti sapevano lavorare! No, prendi la palla, dai! La palla! Saffì! Te come te ci ami? Madre! Oh my god! Madre! Guarda madre quant'è grossa! Oh madonna! Basta con quella palla, eh! Madre! Ma vede che è più grande sua madre! Ciao! A barboncino! No, non è da solo! Piuttosto pure non questo! Sissi! Ciao Sissi! Sissi! Sembra una pecora! È un barboncino! Sembra una pecora adesso! È un barboncino! È un piccolina! Dammi la giunta! Eppa! Eppa! Niente da fare! Niente da fare! Siamo in due a tenerla perché è un mostro! Comunque Anna sta facendo boomerang e robe varie e mi sta taggando in tutti i suoi storie di Instagram! Quindi fanculo! Anna! Uh! No! 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 Non vuole! Sei fatta porfa! Non sei male! L'hai toccata coi chiodi! Ma dai! non è possibile Anna finisce male qui è pieno di cani no la palla no dai Sofì andiamo indietro dai ti prego Anna mi dispiace ha giunto la nostra ora tenera era la tua stupida idea no 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 ma perché c'è la palla Uffa diventa matta Anna tienila oh my god vai vai dai avanti oh no stai attento che la sua smassa basta Sofì ti rompa le in testa Anna lo vedo già che lo guarda male bravo 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 molto bene molto bene siamo salve più o meno siamo sul ponte che fortuna comunque la Sofì mi ha sporchata comunque questo è il mio outfit outfit bici bici sono Andrea perché sono il mio outfit e mi mani Anna bici ciao 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 Sofì, scialla, guarda la mia mano, eh io l'ho portata tutta quel giro lì guarda, come beve la Sofì? Genia, la Sofì è una genia, ma perché ti sei immersa dentro l'acqua mi spieghi? Guardate come sta l'Anna, no, no, allora c'è un dog, credo libero, decisamente libero, Asia a te, Asia a te, Asia a te, Asia a te, meno male che non l'ha ancora visto, sta correndo in giù, no, l'ha visto, l'ha visto, tenela Ma va a pubere? Ma va a pubere? Buon dai, ci vediamo dopo quando siamo arrivate a consegnarla a Sofia, ok? Ciao! Buon dai, ciao! Sembra un portaruggini, dai! Vero? Ok dai, manca poco e arriviamo! Oh my god, che brutta idea che era, veramente! Abbete.. A precauzione... Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming?